Complimenti Trevor per la vittoria. Una vittoria, l'abbiamo detto, ovviamente c'era da vincere, era l'obiettivo di tutte le due squadre naturalmente come sempre, però una vittoria un pochettino agrodolce, visto che è considerato che si poteva chiuderla molto prima. Sì, diciamo che sapevamo che Padova è una bella squadra, ci hanno messo in difficoltà nel mezzo del primo set che poi sono riusciti a portare a casa e quello ci ha fatto un po' male, quindi poi vincere in 4-7 è una buona cosa. A di là però dell'aspetto tecnico, insomma, si torna sempre lì, l'aspetto mentale, quello che forse è il vostro deficit principale, perché comunque le qualità ci sono, anche in regular season è stato così, vi manca veramente pochissimo per competere ai massimi livelli. Sì, sì, diciamo che non possiamo avere dei buchi d'aria come è successo durante il primo set. Quello certo, oggi siamo riusciti a portare a casa, magari contro una squadra ancora più forte, non ne riusciamo. Oggi è andata bene, abbiamo un ritorno molto importante tra una settimana e dobbiamo portare anche a casa questa partita.